Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. È un qualcosa che io mi chiedo molto spesso, come sia possibile che ormai sempre più italiani si trovano in una condizione sempre più difficile, di giorno in giorno, in certi casi anche proprio drammatica, perché ci sono alcuni dati che sono incontestabili. Uno che tutti coloro che hanno un mutuo variabile, questo è aumentato fin anche al 50% rispetto ad un anno, un anno e mezzo fa. Secondo elemento che a questi stessi, come alla maggior parte degli italiani, però lo stipendio non è aumentato, anzi con l'inflazione che ormai ha superato le due cifre, il potere d'acquisto è nettamente diminuito. Se poi teniamo presente che questi stipendi in Italia sono fermi da decenni rispetto a quello che vediamo in altri paesi, basta andare ad esempio su internet e ci sono dei bellissimi grafici di tutti i paesi europei, dove si può andare a vedere l'evoluzione degli stipendi medi a partire dal 1990 e lì possiamo vedere che l'Italia è tranquillamente all'ultimo posto. Ma la stessa identica cosa riguarda le pensioni, che sono le più basse del mondo occidentale. Allora uno si chiede ma com'è possibile che gli italiani di fronte a questa situazione non battono un colpo? Cioè uno si aspetta qualche reazione, qualche reazione eclatante e invece si vede che tutto questo o sta bene agli italiani oppure trovano delle altre soluzioni oppure al momento non colpisce ancora in modo numericamente sufficiente gli italiani per aspettarsi una reazione da parte loro. Voi capite che questo però è un fatto che ci deve profondamente far riflettere. Tanti ad esempio mi chiedono come mai ormai nel mondo, scusate il gioco di parole, nel mondo del lavoro non ci sia una reazione da parte degli italiani? Come mai nel mondo del dissenso che si è creato a partire dal Covid ma poi su tanti altri temi non ci sia più una partecipazione da parte degli italiani? Ecco questo è un bel punto di domanda, probabilmente perché bisognerebbe puntare molto di più su questi temi, sui temi del lavoro, sui temi del salario, sui temi della pensione e invece tutto questo noi non lo vediamo perché è l'unica strada che noi possiamo perseguire. Quando qualcuno mi accusa di essere un populista perché sottolineo il fatto che ci sono invece al contrario di quello che succede nel mondo del lavoro, operai, impiegati, i grandi manager, invece guadagnano due tre volte quello che un pari manager guadagna nel mondo occidentale, mi dicono sei un populista perché questo è un fatto di mercato? Allora possiamo anche ritenere che questo possa essere una interpretazione, una lettura corretta, ma allora quale potrebbe essere e quale è l'unica azione che può far sì che ci troviamo nella stessa posizione a livello di mercato e quindi di avere maggior forza, di avere una maggiore forza contrattuale? È quello di scioperare, è quello come ad esempio potrebbero fare gli infermieri, i netturbini, gli impiegati, di scioperare ad oltranza per costringere il governo a sedersi intorno ad un tavolo e quindi mettere mano agli stipendi che sono fermi da decenni perché non esiste un'altra strada, non esiste un'altra possibilità, sì l'altra è quella di continuare ad essere sempre sempre più poveri. Questa è l'unica cosa, se ci accontentiamo di ridurre il nostro tenore di vita, se ci accontentiamo andando ancora più in basso di mangiare una volta sola al giorno, allora per carità possiamo anche continuare su questa strada. Se però piano piano tutto questo inizia a pesarci e ci pesa soprattutto se magari abbiamo anche dei figli perché non riusciamo a permettere ai nostri figli di studiare, ma magari in situazioni ancora più drammatiche non riusciamo neanche a dare il minimo ai nostri figli che è il sostentamento. Ecco se però piano piano pensiamo a questo dovremo gioco forza trovare le energie per ribellarci a tutto questo. È chiaro che poi dovrebbero comunque esserci anche delle persone che hanno la capacità di tirarsi dietro il popolo, di organizzare, di mettere in scena tutto questo. Ecco io mi auguro che questo avvenga perché è inaccettabile quello che sta avvenendo, perché credo tutti quanti abbiamo la conoscenza delle situazioni, amici, parenti, conoscenti, il vicino di casa, che rispetto ad un anno, due anni fa si trova in situazioni sempre più drammatiche. E guai a colui che pensa che questo non lo toccherà mai perché potrebbe toccare tutti noi, perché potrebbe anche arrivare il giorno o meglio tornare quel giorno che molti anni fa abbiamo già vissuto, che lo Stato mette mano ai nostri conti correnti. Ma allora probabilmente sarà tardi. Con questo vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.